Bella a tutti raga, sono Lock96 e siamo qui in questa seconda giornata delle Olimpiadi di UplayZone Oggi non giocherò io, non sarò io l'atleta, ma sarà il nostro bel Doggif Che mi ha ceduto il posto di commentatore insieme al SempreDirk Al SempreDirk, quindi diciamo che si può partire, vai Andiamo, start Oggi i sport cattivi si intravedono per te Giochi olimpici, continua, seleziona eventi Medagliere come vedete siamo primi, siamo primi per il montagliatore Giapponesi, seleziona eventi Allora, oggi facciamo 6 eventi Facciamo, facciamo, facciamo Tiro con l'arco in dittuale delle femmine Sport No, 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 io direi, io direi pure Piattello Skid, che te ne pare? Sì Sempre femminile, sì Sì, piattello e tiro con l'arco femminile E tiro con l'arco femminile, per te ho visto un bel programma Un bel femminile Scusate ragazzi, sono stati a giusti Bene, ripartiamo Ora fai start Start e si Mai Il caser, il caser, il caser No, c'è tipo un tutorial Bene, qua, al tiro Piattello Skid femminile per dogmi Gli esattici tutto Le baracche Le baracche Quali spingazioni Allora, premio inizio e vediamo se ci sta il tutorial Siamo pure senza tutorial Tanto doggy è fermato un parato Tutorial Caterina L'Obredo Sapevo Vai con il tutorial E mi apri inizialmente Ah, c'ho tipo un FPS No, avete il paro, Pim No, madonna, no, ma che portata c'è a quel coso? Vedi, si estringe quando è possibile spara sul bersaglio L'agumento del bersaglio di Nesspara E spara sempre al bersaglio giallo Eh, perché quando te ne escono due vai a questa Eh, sì, lo so Oh, stai zitto Non piangete tutti e due No, avete dato il colo di Piatleta Tutto qui Caterina L'Obredo Quest'amici Eh, beh, cazzo Caterina Gampionessa italiana Mi è tenuto gli italiani prima È bellissima Eh, so io Prima Caterina se ci ascolti sei fantastica Ecco qui il primo liscio per l'Italia L'Italia che si riprenderà Mi sono messato forte Perché se non si riprenderà l'atleta tu sopravviverà E il secondo liscio Caterina se non si riprende E il primo liscio per l'Italia è un fresco inizio Quarto posto per le qualificazioni Basta Basta No, non basta Non basta Per terza Stazione 2 5 2 2 2 Pum E lo prende E lo prende Tutto merito di Caterina 1 Caterina Che donna Doppio 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 No Liscio Lo so qua lo prende E lo prende L'aspirata Scurata e non poco Ma Brava Caterina Se non so Ma Se non so Non so Per le qualificazioni Non si Bieta Zito La bronca Elisabeto Zito La bronca E la stazione Per l'Italia Caterina L'Offredo Perpetata da Doggif Mamma mia Ragazzi Ma io vi chiedo Perché non mi hanno chiamato A commentare No Liscio Vabbè sto qua E' un po' Sicuramente Figura del genere Non si vedeva Dall'ultimo Olimpia L'Italia De Doggif No Liscio Liscio Double Liscio Sicuramente Sicuramente RISC Ecco Non mi hai fatto leggere A confezione La Fantastica Che l'abbiamo Segui il movimento Cioè Se arriva a darti Puri i consigli E' brutta E lo prende Per questa volta Scula Un applauso Niente bullet drops Sti cucini Non l'ho capito E' singolo E' singolo E' singolo E lo prende Mamma mia L'ha scurato L'ha preso Per un pezzo Stazione 4 Doppio Attenzione C'è il doppio Eccolo E' un'azione Completata Stazione 4 Porta bene Mamma mia Stazione 4 Doppio Quanti gioco Liscio E lo prende E va bene Ci si può stare 5 Un solo 5 5 5 6 Ma siamo ancora La seconda posizione Apparicato Con la Guarda Thomas Stazione numero 5 Tenzione Attenzione sale Singolo Singolo Easy Sì, singolo easy. Infatti l'hai preso. Molto easy. Very very easy. È pietà. Ecco il doppio per la stazione città. Questo qua è prima come era. Viscio. E lo prende, prende il cartello rosso. E visto che diventa sempre più easy. Gala in terzo posto, la Thomas ci recupera. Sono passati dalla Nuova Zelanda. Faccio il culo. Sicuramente. Viscio al singolo. Che olimpiade per lei il tiro. Che olimpiade. Lo prende. E lo viscia. Uno su tre. Sarà scavato ancora? No. Sempre in terza posizione. Forse riusciremo a conto. Poco poco probabilmente saremo in quarta posizione. Teniamo conto che sono sempre le qualificazioni. E non bisogna essere per forza tranquilli come ai 200 metri di corsa come ha fatto l'ultimo. di corsa come ai 200 metri di corsa come ai 200 metri di corsa. E ha lisciato anche i gattelli della settima stazione. Ultima stazione. Liscio. Fantastico. Rischiamo di non essere nemmeno qualificati. Un nuovo singolo. Un nuovo singolo. Sempre singolo. Ottimo. L'abbiamo preso. L'abbiamo preso. L'ha preso per lato. Ha sculato. Non manco poco. E' il secondo posto. Mamma mia ci siamo riusciti a qualificare. Pari merito con... Perché due secondi posti? Perché due secondi posti? C'è qualcosa che non ritorna. Non quadra la... Non esiste una terza posizione. E' il gioco ha fatto quanto riguarda. No no no. Esiste la terza posizione. E' Carolina Pesela. Ma perché siamo in quattro? Seconda posizione a pari merito a quanto pare l'italiana Caterina. Tu ci fai leggere? Stavo commentando. Caterina Lomfredo. Lomfredo. E... Terza posizione. No no no. La Zedegova della Polonia. Adesso passiamo al tiro con l'arco femminile. Indibituale. Vediamo. Qualificazioni come al solito. Chi sarà la nostra atletessa? Lord Cricket Brown. Ci siamo spostati in questo campo meraviglioso. I piccioni stanno beccando il grano. E si prepara Angela Paladino. Paladino. Eh... Ci dicono che la coreana è molto forte. Questo è il tutorial ragazzi. Usa L per mirare. Per mirare rilascia R. Sette punti. Per un tutorial ritenta la voglio un dieci come tutorial. Direzione del vento. 3 minuti a seconda. Oh studi fisica porca miseria. Se non riesci a prendere il colpo. C'è il troppo. 1 minuti. Vai. Non passi. E... 9 punti. Vabbè adesso non c'è il paladino. Mi scoccavo un tempino in 20 secondi. Perfetto ragazzi. Si può passare alla vera gara delle qualificazioni. Ancela Paladino. Direttamente dal frio di Venezia Giulia. 4 metri al secondo. Hai il vento che tira da ponente quindi... Hai altri 11 secondi. E un 8 punti. Che poteva essere 9. Il secondo tiro per l'italiana. Troppo frettolosa. Ancora 8 punti. Prego. E... 4 metri al secondo. Ti punterei un pochino più a destra. Molto più a destra. Ciao. 9 punti. Bellissimo ragazzi. Paladino esulta. Paladino esulta. E se lo merita. Viene da una famiglia di arcieri. Anche il padre. Ciao. Paladino era un arciere. Medaglia d'oro nel 2000. Primi. Che non c'erano le Limpiadi nel 2000. Ma va bene. Erano gli europei. No. Però c'erano le 2000. No. C'erano le 2000. E allora è loro nel 2000. Direzione in quattro. Centro. Se prima venivano da ponente. Ora sarà deponente. No. Non sarà l'impecio se viene davanti. Ma sta a guardare. 9 punti. Anche se l'avrei dato da vedere al tabellone. Lo slow motion vogliamo. Non si vede bene che cosa abbia colpito. Se sulla linea del 9, sulla linea del 8. Attenzione. Un 10. L'Italia si stacca dal gruppo con questo 10. Scendo giù la platea ragazzi. Sì. Attento a non prendere i 500. Siamo sconati. Ragazzi. Tutti a casa. La Paladino è sulla. Che giro ragazzi. Una trance quasi perfetta. Perché come voi sapete. Sono 3 kg. Massimo è presa. La nostra Angela Paladino ha fatto 29 per 1. Dai 54 punti. Siamo primi. Ci segue la coreana. Che forse è giapponese. L'Italia sta spingendo. Molto devo dire. Un po' di tensione. Spingli Paladino. Paladino alla prima piaccia. Attenzione. 10 punti ragazzi. Mamma mia. È partita alla grande. Ciao. La mano è calda. Sono sicuramente nervosite da questa. 10 punti. Si avvicina sempre di più alla mosca. Attenzione ragazzi. Sarà il tiro perfetto? O la trance perfetta? 3. No. Purtroppo. Per un punto. Ancora manca. Ma non ci fa stifo ragazzi. La prossima credo sarà quella giusta. Concentrazione. Concentrazione. Come vedete. E' partita la Freccia. Un 9. Ma va benissimo. Va benissimo. All'Italia basta e avanza per le qualificazioni. Ci serve un solo 10. Questa è l'occasione Angela per fare una trance perfetta. Ci servono un 10 e un 8 per vincere per arrivare primi alla qualificazione. 9 punti. Le avversarie. Soprattutto la coreana. Ci serve un altro 9. Siamo qualificati sicuramente. Qualsiasi sia l'esito o primi, o secondi o terzi siamo in finale. 8 punti. Troppo frettoloso il tiro della Paladino. Anche se dovremmo essere comunque... Questo è un no shot. 8 punti. Le minchiate del giocatore. Non ho voluto fare un quick score. Purtroppo ragazzi. Non è stata una trance perfetta come quelle di prima. Ma chi lo sa, magari siamo ancora primi. Primo post in video. Primo post in video. C'è il post. Le qualificazioni sono andate alla grande. Ma adesso andiamocela a giocare alla finale. 8 points. 108 punti. Il secondo posto della Jumi Kurutawa. La giapponese Jumi Kurutawa. Terzo posto a pari merito con Christine Reed. L'americana Christine Reed e la Tedesca. Non sono a pari merito, però anche la guarda arriva. Anche la guarda. Quanto male ci sono. Grazie Rola, devo seguirlo molto meglio. Premi. Grazie. Non abbiamo punti. E lo skip femminile. Skip femminile finale. La nostra... Mi sfugge il nome al momento. La Lonfredo. La Lonfredo ragazzi che... Alla imparazione. Siamo qui. Lo skip femminile. Alla finale delle skip femminile. C'è un'attenzione. Ragazzi le bandiere italiane sono in prima fila. Seconda giornata. Seconda giornata olimpica qui per... Le olimpiadi di Uplayzone. L'Italia a gran voce. L'Italia in fin... Questa seconda giornata è tonale. Finale in tutte e due le skip... E la schiula finisce. E la schiula finisce del vero. E la schiula finisce del vero. Eccola qui. Non è Lonfredo. L'ho preso. Lo schiula finisce. Là però non si dice mai. Primo skip. E... Presi. Lo presi. Lo presi. Lo presi perché è passato siciliani. Dico questo questo. Lo presi. Dovebbe preso. Poore e nido. Quello è toscano. Quello è toscano. guarda sempre italiano primo piattello e lo prende non ha calcolato la traiettoria del proiettino la roffredo che viene a casa la roffredo subito terzo posto la nuova nuova o vecchia zelanda nuova la new zealandese new zealand quella che viene dalla nuova zelanda la roffredo si prepara